cari amici eccoci alla festa dell'immacolata concezione di maria potremmo dire che nel cammino dell'avvento irrompe maria e il vangelo di luca che andremo ad ascoltare ci presenta la vita di maria potremmo dire in due tempi il primo tempo tratteggia la vicenda personale ella è vergine ella è promessa sposa e la convoglierà a nozze con giuseppe ma al tempo della sua progettualità piena di futuro e di splendide attese sembra seguire un tempo di smarrimento e di interrogativi eccoci al secondo tempo della vita di maria ed è il tempo in cui ella è coinvolta totalmente nella vita del suo figlio gesù e così è proprio lei che ci aiuta a scoprire che non si tratta di cancellare il primo tempo ma di viverlo con uno sguardo di viverlo in una prospettiva di fede allora le parole del vangelo che mi sembrano significative per cogliere come noi dobbiamo continuare a camminare nell'attesa del signore alla luce della fede mi appare significativo quello che l'angelo dice innanzitutto a maria hai trovato grazia presso dio ecco per possedere uno sguardo di fede sulla vita e sulla storia non possiamo eludere quella decisiva e irrinunciabile consapevolezza che ci fa riconoscere l'azione di dio nella nostra vita e nella nostra storia hai trovato grazia presso dio questo è quello che conta immediatamente in prima battuta ma poi per vivere il tempo che ci è dato non solo come nostro tempo ma come tempo di dio dobbiamo cogliere come l'angelo descrive a maria il progetto in cui ella è coinvolta concepirai gesù figlio dell'altissimo e qui ci rifacciamo al grande padre agostino che ci descrive maria come colei che innanzitutto ha generato nella fede il signore gesù e poi ha donato al figlio dell'altissimo il corpo di carne e possiamo fare storia con lui perché egli è in noi perché lui cammina con noi come maria anche noi siamo chiamati a generare gesù nella storia nella fede che possiamo vivere facendo nuova la storia abbiamo poi una terza rivelazione che l'angelo manifesta a maria e a noi lo spirito santo scenderà su di te ecco dobbiamo ricordare bene che l'artefice di tutta la storia è lo lo spirito santo lo vediamo nell'ora della creazione aleggiare sulle acque lo vediamo accompagnare ispirare la storia di israele e la storia di quegli inviati al popolo ebraico perché ne siano guide conduttori salvatori lo spirito lo vediamo agire nella vita di gesù lo vediamo agire l'abbiamo sentito nella vita di maria ma lo spirito viene ad agire anche nella nostra vita perché senza lo spirito santo non si è di cristo e non si appartiene a lui nella storia ecco allora il primo tempo della nostra vita scorre inevitabilmente secondo i nostri desideri e i nostri sogni e non è detto che siano necessariamente dei desideri dei sogni sbagliati ma vi è un secondo tempo che vede in primo piano la grazia di dio che ci raggiunge l'adesione a cristo che vive in noi e cammina con noi l'azione dello spirito che ci rende salvezza nella storia grazie a tutti 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 grazie a tutti